La Lega è importante, mancano due settimane, quali i punti da cui ripartire nei nuovi cinque anni che volete governare? Innanzitutto continuità sulle tante iniziative che abbiamo in corso e poi, come ho già detto tante volte, abbattere definitivamente le liste d'attesa. La nostra sanità è la migliore, dobbiamo eliminare questa piccola ombra che è determinata dai lunghi anni di Covid che hanno purtroppo impedito agli ospedali di lavorare a tempo pieno. Il Ministro Salvini anche viene insistito molto sul tema delle infrastrutture, cioè l'importanza di investire, visti i gradi appuntamenti che ci aspetta. Noi abbiamo tanti progetti, anzi, se verrò rieletto, credo che una delle prime cose sarà incontrare proprio il Ministro Salvini per fare un piano organico di tutte le opere pubbliche, quelle che facciamo noi, quelle che fanno loro, in modo di coordinarci e fare un lavoro organico.